Ma guarda, sai, io l'ho detto un sacco di volte che poi, ecco, c'è abolito questa regola assurda del calzomercato perché poi, ecco, tre giornate siamo qui a raccontarci poi le solite storie all'anti giocatori che poi magari andranno via, arrivano altri giocatori che poi magari saranno in condizione di quelle che sono anche poco piacevoli, non so che condizioni arrivano, insomma non c'è tranquillità nell'ambiente, ecco, questa è una regola, è una regola, ecco, è assurda regola assurda, quindi le regole sono cambiate, vanno valutate, quindi spero che come tante tante competizioni vengono migliorate, le televisioni, alcuni incontri e quant'altro anche la regola del, ecco, del calzomercato, insomma, vengo un attimino, ecco, gli vedi vengo dato un occhiale perché, ripeto, è inconcepibile, è incoerente, è giustificato, è inadeguato, non ha proprio minimamente, ecco, 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 minimamente senso che, ripeto, dopo tre giornate di campionato 3 di A, 4 di B, fate voi, alla fine ci siamo ancora in mezzo al calcio del calcio, i giocatori poi sono, sono comunque distratti, non sono in condizione, pensano ad altro, quindi sai, e se è comunque un lavoro fatto in modo anche poco accurato, poco, insomma, piacevole, quindi ripeto, diventa poi complicato per tutti lavorare in queste condizioni, ecco.